Io sarò Eugenio, il marchesino, figlio del Marchese Ottavio Favetti, nonché nipote del Principe di Casador, mio zio. E sei preparato? Speriamo che... Sei pronto? Sì, sì. Tu sei il... Il cuoco? Il cuoco. Il cuoco, il cameriere. Il cameriere è caldo. E che fai, che fai? Hai un figlio adottivo? Non ho capito niente, guarda. Allora, dovrebbe essere mio figlio, però non adottivo, cioè facciamo finta. Facciamo finta che... Perché poi alla fine vengono un paccio, a maggio, non si capisce niente. Manca poco tempo per andare in scena, nervoso? Innanzitamente no. No. Ti giuro, ma non sono nervoso. Lina, Lina, come va? Che parte fai tu? La babbasuna. No, nella commedia che parte fai? La babbasuna. Dai, qual è il tuo personaggio? La babbasuna. Poi lo scoprirai stasera. Lo scoprirete solo. Cosa mia? Com'è? 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 Questa opera? Quanto panca? Quanto panca? Quanto panca? Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca la messa in scena? Ma chi ne sa? Ci manca 4 ore, 5 ore. 4 ore e 50 minuti. E tu sei tranquillo? No, tranquillo non è molto male, la scelta. Sei preparato? Preparato? Da due mesi e mezzo. Caspita, quindi... Perché non ti dica? Stia a guardare l'obiettivo. Non ho obiettivi nella vita. Come finì? Salvo! Di Maio? Mi fanno appicchiare? Sì, sì, dobbiamo prendere sedie. Che parte fai in questa commedia teatrale? Il padrone di casa? Ma la casa? E qui si sono boittina. Ah, appunto. Io li voglio pure sequestrare. Ma che gli sequestra sti morti di padre? Andiamo avanti. No, spazia, questo è caldo. Ti è, ti è abbassicurato uno di là. Questo è caldo. Questo di qua. Se si chiama Angelo Eugenio, io ancora devo vedere bene nella... È un Angelo Eugenio. È un Angelo Eugenio. Che ovviamente per atto d'amore ha messo nella maglietta la foto della fidanzata. Da quando ancora non aveva la mamma, va a comprare. Perché se non fa più errore. Ora tu la subito io a tia, tu sta cosa. Oggi faccio vedere... Ancora? Ah, ancora! Ma ti c'è un giudietto là. Dai, Daniele! Basta! Giù, dìglielo, Daniele. Ve lo dico io a Daniele. Daniele è sempre che registra, quindi. Che problema ha qui? Daniele, allora vogliamo i diritti d'autore. Esatto. Già abbiamo pagato la siana. Non mi interessa. Abbiamo pagato. Alla sera, ora la prego. Io non ti ho autorizzato a fare nessun film. Il signor regista della serata. Grande, grande. La mia mamma, amica, ma si è sciolato. Ma il cazzo? Ehi, c'è cavolo. Non lo so. Si lavora. Chi è? E tu che vuoi fare? Ah, la ucina che sarà. E dai, te li vuoi passare? Fatti, passate qui. Donna Luisa, ma lei questa recita che fa? Tutto. Quello è il problema. Qual è stato il problema di fare questo laboratorio? Le lo spiego subito. I personaggi che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo. Però per fortuna, siccome buon Dio lo vuole, lo stiamo realizzando, se tutto va bene. Vabbè. Vai. Ragazzi, andiamo in tutto. Io senza cappetta le sono. Tu chi sei? Tu chi sei in questa commedia? Io, il primo cliente che cerca la stazione. E vuole essere pagato da Toa? Lui vuole essere pagato da me, per l'informazione. Ma? Eh, pazza, pazza. È contesa? Sì. Com'è questa commedia? Com'è? Grazie. Il suo personaggio com'è? Dovete guardarla. È il mio. Lo scopriremo. Come lo scopriremo? È un bel personaggio, un brutto personaggio. Com'è? Intrigante. Intrigante. Quindi lo vedremo. Misterioso. Misterioso. Com'è ci si sente ad essere arricchiti senza titolo? Grande emozione, nonché una grande responsabilità. Il tuo personaggio, chi è in questa commedia? Farò Don Gaetano. Ma il mio amore, come siamo? Papà di Gemma. La ballerina. La ballerina contesa da tutti. Ma alla fine qualcuno... Sì, la sposerà. Sì, la sposerà. Buon divertimento. Ma se faccio? Io no, papà, non vuoi. No. 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 No.